Ed ecco un altro mulino, il mulino di Rizzolo. È bellissima questa zona, con tutta questa abbondanza di acqua, con questa vegetazione. Oggi con questo cielo azzurro, questa giornata splendida. Ecco allora, facciamo vedere un po' tutta la zona. Da qui si intravede bene anche la chiesa con il suo campanile, la chiesa di Rizzolo. Ed ecco il canale con il mulino, davvero uno spettacolo. Bene, da Rizzolo, sempre frazione del comune di Reana del Royale, un caro saluto a tutti voi. Mandi! Grazie.